se vedi solo che qualcuno ci dà un calcio una botta mi fai un gesto io brava 2 1 mi sembra che ho già trovato sono perso 2-1 lecce per quelle stava scendendo la pezzura stava scendendo la pezzura stava scendendo la pezzura ma anche aumentano a giugno è cresciuto un sacco adesso ha acquisito la pazienza bella questa ma che bella è apprendibile ma poi gioca a te no no già fatto già dato no ma dico a questo torno non lo fai già dato lunedì ho giocato giocato perché Patio l'ho fatto ma perché anche al tenere a chi no non può attenzione è ipocondriaca per favore attenzione il mio amico ha piangato la pavola scusate 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 che fa il padre 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 è spaccato per uno scatto di merda si è spaccato a 4-5 c'è ma sì si va bene fattelo vedere fattelo vedere vieni come il Giorgio io c'ho un po' l'inchiammazione che me la porta avanti no perché comunque non sai quando giochi a che ora giochi così brava brava 3-1 io sono fattusissima e che adesso oggi non sono fornissimi ma si può sapere ma si può sapere come si sta bene quando mi stai sei mento e poi vai 1-3 1-3 in questo game in vantaggio la non farò non farò questo c'è che ho non farò più carico non lo mai vediamo un po' un po' Grazie a tutti. Grazie. 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 non è neanche tirato non siamo a cassa con cassa nooo non ero tipo minchia te la lezione te li ho fatti fare sette volte brava Fimo brava Fimo cosa fai? che è successo? per chi? un prince si si ston ancora sudando ston ancora sudando aspetta due minuti bella brava gran recupero di stile prima hai visto? ma c'è? ma c'è sta oltre ripeto ma c'è una nuova ma ci sono ma non ho l'armi norvegise Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì, ho visto sì moche un pochino il bagagio del mare. Ah, sì, ho visto sì moche un pochino. Ah, bravo, bravo, Laura. Ah, bravissima. Ah, 40 pari. Non pensavo si stanno andando a girare. Sono 2,4, 40 pari. Ah, 2,4. Non mi sono perso. Allora, c'è questo decisivo. No, non mi sono perso. C'è punto a un pochino. A lezione è o'altra cosa? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti. Grazie. 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 Grazie mille. Ok. Perfetto. Sì. Perfetto. Va bene. Ok. Grazie mille. Ciao santano, ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie. Si dai. Sì, grazie. Si è che si è andata, è andata. Questa fine non si deve. Grazie. 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 così sono secondi due passate il primo Grazie. 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 Grazie.